9 mesi di reclusione, 1.000 euro di multa, risarcimento del liquidare in sede civile, il pagamento delle spese processuali con una provisionale di 3.420 euro e questa la pena combinata da giudice monocratico del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, a un 43enne di Raiano, finito alla sbarra per aver minacciato, aggredito con una spranga di ferro, il vicino di casa. I fatti risalgono al 25 luglio del 2018. Secondo il castello accusatorio, l'uomo, dove aver provocato un danno inciusto alla persona offesa, minacciandola al grido di ti ammazzo, l'avrebbe colpito con una spranga di ferro in più parti del corpo, cagionandoli un trauma cranico facciale e un'escoriazione al gomito destro. Le lesioni aggravate dall'uso dell'arma impropria sono state giudicate guaribili con una prognosi di 20 giorni, stando alla rifertazione medica rilasciata dal pronto soccorso del locale Nosocomio, da qui il procedimento penale scatuito dalla querela del vicino di casa, che ha portato oggi alla condanna del 43enne. La pena resterà sospesa, poiché l'imputato risulta incensurato.